salve gente bentornati due minuti una fragranza e oggi parliamo della redwood della woodwick che è una marca validissima di profumazioni allora queste sono le tarte della woodwick io poi lo spezzetto in tre faccio tre triangoli ipotetici e la descrizione per me una dopo barbina la woodwick non mi pare abbia delle categorie quindi per me la dopo barbina e basta un profumo complesso che unisce ricche note di legno di sequoia con legno di sandalo e soffice ambra quindi una serie infinita infinita sono tre di quelle citate poi ovviamente ce ne saranno delle altre di sentori tipicamente tipica tipici oppure tipicamente del dei profumi maschili e sa proprio di boscaiolo cioè proprio dopo barbina se non so esattamente identificare i legni parte l'ambra comunque scaldami nell'aria secondo me adesso da spenta non la sento però mi ricordo che da cesa c'è una puntina infima ovviamente mi ero dimenticata di dire che la foto bella ve la metto qua e c'è una puntina infima proprio piccola 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 di menta secondo me da qualche parte poi magari mi sbaglio ma le note non sono segnate quindi è tutto un prenderci è una dopo barbina molto avvolgente cioè ti entra proprio dentro al naso questa profumazione un mix proprio tra tra tagliaboschi e wolverine e riempie l'aria dopo barbina però non era dopo barbina classica come magari possono essere tante marine perché appunto questa qua è una dopo barbina di tipo legnoso ambra quindi legno di sandalo e legno di sequoia e adesso la sequoia non lo so però rende bene piace perché questa qua è una di quelle che piace a me questa qua è tra le dopo barbina è quella proprio che mi piace di più perché proprio l'accendo adesso sì e woodwick vi lascio nel link nel link nell'info io lo chiamo sempre link però io vi lascio il link sotto nell'info box del sito dove dove acquistarla cioè un punto la fabbrica delle idee punto e u qua su in alto qua vi lascio invece sondaggio quindi se avete provato questa profumazione e vi è piaciuta scrivetelo cliccate se non vi è piaciuta cliccate se vi siete incontro usati cliccate se non ve ne frega niente cliccate e mi raccomando cliccate anche sotto iscrivetevi al canale attivate il campanellino per ricevere tutte le notifiche se il video vi è stato utile mettete like se pensate che possa essere utile a qualcuno condividetelo sempre sotto nell'info box vi lascio i link della mia pagina facebook del mio instagram del mio blog e del gruppo candle universe italian edition che ha un gruppo facebook ricco pieno e stra zeppo proprio di utenti perché membri non piaccia l'altra admin come termine gli utenti appassionati delle profumazioni d'ambiente e candele io i video li pubblico il lunedì il venerdì e praticamente quasi sempre il mercoledì e adesso linea al tg ciao